Buongiorno a tutti siamo qui per un nuovo video su... Blue Sears! Come avevo detto, nuovo video, nuove cose. Ragazzi siamo qui per fare fuori... Per provare Ash e fare fuori tutti quelli... Ma va bene? Ok ci vuole bene. Ma va bene? Ci sei vado! Che cosa sta facendo questa? È un perla! Madonna fai qualcosa di là! Ah, se no era più utile qua! Ok, non male! Ok, vediamo un'altra cosa. Questa è la cava. E poi... E poi... E poi... Guarda, non colpisce un cazzo! Guarda, non colpisce un cazzo! Guarda, non colpisce un cazzo! ... ... ... Oh no. Eh, dai, devo ammettere che è stato difficile. Sono esatta a rubare l'energia. Sceglia. È stato difficile, l'anno. Più 20 coppe in un colpo solo. Questo si deve farmare. Ok, c'è una mappa fede dell'altra che mi ammarrà fagenne. C'è, i miei lati sono stati fatti da me. No, adesso lo vediamo. Dove ammettere che i miei lati sono sempre essi. Scusi, non è bravo. Sono rai, sono delle lati, sono anche i coglioni degli lati. E' pure. E' pure. Vedete che se questo gioco è una merda? In culo! Sì, vabbè, ho detto che non è più di questo, non è più di questo. Il gioco è merdoso. E niente, ragazzi, chiediamo qua questo episodio perché Aspen sta già sul cabo ogni minuto, comunque. Cioè, non so. E niente. Entrate nel clan, mi raccomando. Please, please, entrate nel clan. Per il resto è tutto. Dottore, 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 dottore. E questo inutile Ash Vi auguro una buona giornata a tutti.